Buon pomeriggio a tutti amici e appassionati di sport, ben ritrovati su Mollerino Sport Channel. Io sono Alessandro e sono qui per parlarvi dei risultati delle finali e delle semifinali della quarta giornata ai mondiali di nuoto di Guangyu 2019. Scusate un po' per il ritardo di questo video, ma ho seguito il Tour de France, tra l'altro una tappa incredibile, con tappa accorciata per mal tempo, la maglia gialla che è cambiata, Pinot che si ritira. Comunque vi invito a passare dal video precedente, fatto da Marco Ciccio, riguardo appunto la tappa del Tour de France, se vi interessa. Comunque, una giornata di grandissimo nuoto, purtroppo non per l'Italia, che non riesce a salire sul podio, tuttavia una giornata di altissimi livelli, con bene tre record del mondo, avete capito bene, tre record del mondo battuti. Partiamo subito con Caleb Dressel, che domina la semifinale dei 100 metri del fino. Caleb Dressel, già vincitore di tre ore in questa edizione di mondiale, di sette nella scorsa edizione, che batte il record del mondo del connazionale Michael Phelps, dello scuolo di Valtimora, per 32 centesimi. Record segnato in gomma a Roma, 2009. Dunque, il nuovo record del mondo diventa 49,50. Lo scorso era appunto 49,82 di Michael Phelps. Passiamo invece alla gara dei 100 metri stile libero femminili, vinta un po' sorpresa dalla campionessa olimpica Simone Manuel, degli Stati Uniti, statunitensi appunto. Un po' sorpresa, in quanto negli ultimi anni, dopo la vittoria delle Olimpiadi, è andata un po' incalando e non aveva più ripetuto le prestazioni fatte appunto a Rio 2016. Riesce a vincere davanti a Campbell, l'australiana, e alla Sarah Sjostrom. Scusate, ma questo nome non riesco proprio a pronunciarlo. Appunto la svedese, la campionessa svedese, che pare un po' sottotono in queste edizioni di mondiali. Passiamo invece alla Russia, che vince ben tre ori. Partiamo dai 200 d'orso, vinte da Evgeni Rilov davanti a Ryan Murphy, lo statunitense e all'inglese Green Bank. Vittoria anche nei 200 rana per Yulia Efimova, che si ripete dopo l'oro anche a Budapest 2017. Complice anche la squalifica di Lilly King, la favorita numero uno in batteria, per una partenza falsa. Ultima gara vinta dalla Russia, ma non la meno importante, in quanto è stato battuto il record del mondo, la gara dei 200 metri rana maschile. Vinta da Anton Chukov davanti a Matthew Wilson, l'australiano, e a Watanabe, il giapponese. Nuovo record del mondo di 2 minuti 0,6 secondi e 12. Nuovo record battuto da Chukov e preso proprio da Watanabe, che è stato bronzo in questa edizione. Grandissima sorpresa nella semifinale di 200 d'orso femminile. Regan Smith, classe 2002, quindi una mia coetanea, che già nelle batterie aveva segnato il record del mondo giovanile, e riesce addirittura in semifinale a battere proprio il primato mondiale, tra l'altro polverizzando il record precedente di Missy Franklin, appunto la connazionale, la statunitense, che era 2,04 e 0,6, e Regan Smith invece fa segnare 2,03 e 35, una prestazione veramente clamorosa della giovanissima atleta statunitense. Secondo miglior tempo per Kylie Massi, la canadese, e terzo miglior tempo per Margherita Panziera. Tutte e tre gareggiamone nella seconda semifinale. Passiamo infine alla 4x200 stile libero maschile, una staffetta che ha visto l'Italia qualificarsi con il miglior tempo, il miglior crono, composto da Megli, Detti, Ballo e Di Cola. Gara strepitosa degli italiani, che riescono a polverizzare il precedente record italiano di ben 3 secondi, però purtroppo non riescono ad andare a podio, per pochissimo, in quanto la vittoria loro va all'Australia, nettamente direi. A un secondo circa la Russia, staccata di 20 centesimi gli Stati Uniti, e staccata di 3 centesimi dagli Stati Uniti, e quindi 23 centesimi dalla Russia, l'Italia. Italia che dunque è andata vicinissima al podio, purtroppo non è riuscita a vincere una medaglia al tocco, purtroppo gli Stati Uniti ci hanno preceduto. Comunque, per questo video è tutto, vi invito a lasciare un commento, un mi piace e iscrivervi, seguirci anche sulla nostra pagina Instagram Mollerino Sport, e noi ci vediamo a un prossimo video.